Vi parlerò di Raffaello tra visibile e invisibile, la cupola e l'arco di trionfo nella stanza della segnatura, stanza che come sappiamo è un compendio del sapere enciclopedico in un luogo che era la biblioteca del Papa. La scuola ad Atene è uno spazio immaginato a somiglianza di quella che doveva essere la Basilica Vaticana, ricostruita da Abramante che qui è rappresentato insieme a Michelangelo tra i grandi filosofi e scienziati dell'antichità. L'altro grande affresco, la disputa del sacramento, ha un elemento estremamente interessante, un blocco marmoreo gigantesco che vediamo nel particolare a sinistra, che è stato interpretato come pietra della Basilica Vaticana e che credo invece sia il basamento di un arco colossale che qui ho ricostruito a destra e che raggiungeva il cielo della chiesa trionfante a partire dalla terra. Ma soprattutto la geometria e l'architettura di questo affresco vede in alto una cupola ideale che ho ricostruito con queste curve concentriche intorno al perno della Trinità con le figure irradianti delle tre persone, Dio, Cristo e Spirito Santo e soprattutto il fulcro, il fuoco prospettico e lo stensorio che comprende, contiene l'ostia consagrata dove appare Cristo crucifisso e quindi Cristo appare due volte nell'affresco. un affresco che esprime il senso di una chiesa fatta dagli uomini che sono le pietre viventi dell'edificio della grande chiesa che sarà la città di Dio, secondo le parole di Paolo che diceva voi siete le pietre viventi dell'edificio nel quale c'è Cristo nostro Signore.